Ben trovati da Nico Schiodetto, previsione per martedì quando l'anticiclone di matrice nordafricana di nuovo invaderà l'Italia con caldo intenso nei prossimi giorni. Seconda parte di settimana bollente al centro-sud, in alcune zone ancora andremo oltre i 36-37 gradi. Il tutto è dovuto a questa ampia circolazione di bassa pressione posizionata tra isole britanniche e Francia che richiamerà correnti calde dall'entroterra sariano verso le nostre regioni. Martedì c'è di segno poco nuvolosi, non prevediamo perturbazioni ma bensì tempo solleggiato. Anche la prossima grafica ci conferma il sole con caldo in intensificazione. I temporali solo verso la serata sulle Alpi occidentali. Tutti i dettagli precisi, ulteriori scaricando l'app di Trebi Meteo.